A volte la normalità cambia in un già secondo Giampietro, dimmi Fabrizio, ti devo dire una cosa Di che cosa si tratta? Da grandi poteri? E' davvero incredibile Cosa intendi dire Fabrizio? Devi capire che c'ho la stecca nelle mani Derivano grandi stecche L'uomo stecca E' prossimamente nelle vostre sinapsi Devo dire una cosa Vaffanculo Vaffanculo Vaffanculo